Chiama il baseball l'ottobre è un momento magico, sono iniziati i playoff e come tutti i playoff già al primo turno ci sono tantissime storie di cui raccontare ed episodi di cui bisogna assolutamente approfondire. Tanti upset ci sono stati già nelle wildcard series, i Mets si sono qualificati in un modo improbabile e alla fine saranno delle grandissime division series. Da una parte Detroit contro Cleveland e Kansas City contro New York Yankees, dalla National League invece avremo New York Mets contro Philadelphia e San Diego contro Los Angeles Dodgers, sono un grandissimo derby californiano. Benvenuti alla prima parte dei recap per quanto riguarda i playoff della MLB, vi ricordo che a ogni fine turno ci sarà un recap qui sul mio canale per capire cosa è successo e come si sono qualificate le squadre nei vari turni in una strada che vi porterà fino alle World Series e anche in un commento finale. Vi ricordo anche che domani mattina parleremo approfonditamente di queste wildcard series che sono state veramente foglie e incredibili con gli altri ragazzi del team, quindi il doc Andrea di MLB Italia, media battuta con Teor Solan e con Puma Z, il team si ritroverà su Instagram domani alle ore 11 per il direttore del destino. E a proposito di destino, a proposito di grandi playoff, torniamo a quello che è successo sul campo perché come vedete c'è un tabellone decisamente particolare in American League, probabilmente ci aspettavamo tutti delle squadre un po' più blasonate qualificarsi al turno successivo e invece delle squadre giovani hanno fatto dell'upset. Dall'altra parte invece i New York Mets vincono per la prima volta dopo 10 anni una serie di playoff battendo Milwaukee e dall'altra parte San Diego si sbarazza di Atlanta 2-0 e quindi affronterà i Los Angeles Dodgers. Per capire però come siamo arrivati al tabellone che vediamo di fronte a noi, dobbiamo però partire per una volta dalla fine della regular season, ci eravamo lasciati nel video di qualche giorno fa, fatto anche con Andrea di MLB Italia, appunto con una situazione un po' da definire. New York Mets e Atlanta Braves dovevano giocare ancora due partite tra di loro e in base al risultato della miniserie dovevano evidentemente uscire la quinta e la sesta qualificata nel tabellone della playoff della National League. Alla fine Atlanta e New York smezzano le vittorie 1-1, tutto tra lucevino e di conseguenza New York si qualifica come sesta affrontando Milwaukee, mentre i Braves si qualificano come quinti affrontando i San Diego Padres. Nel parlare però di quello che c'è nel campo, per una volta però concedetemi un attimo di gioia da tifoso, i New York Mets per la prima volta dopo dieci anni vincono una serie di postseason e lo fanno in un modo clamoroso contro i Milwaukee Brewers. Ma per capire evidentemente che tipo di serie hanno giocato queste due squadre andiamo subito con le azioni più importanti delle tre partite e quindi con la mente e la memoria ci trasferiamo all'American Family Field di Milwaukee Wisconsin per vedere quello che è successo nelle tre competizioni. Ricordo che la miglior squadra qualificata aveva il fattore campo a proprio favore, le Wild Card Series si sono giocate al meglio delle tre partite, di conseguenza Milwaukee giocava tutte e tre le partite in casa esattamente come l'anno scorso, esattamente come l'anno scorso sono usciti l'anno scorso per mano degli Arizona Diamondbacks quest'anno con i miei New York Mets. Gara 1 è una gara 1 molto bella, alla fine il punteggio reciterà 8-4 per quanto riguarda i Mets e i Mets capitalizzano questi punti con un grandioso quinto inning, a cominciare dal singolo da due punti di Mark Vientos, uno dei ruchi più importanti della formazione di Mendoza. Arrivano i punti del 5-4 e del 6-4 che permettono ai Mets di sorpreavanzare i Milwaukee Brewers che comunque erano partiti molto molto bene e questa è l'esultanza di Mark Vientos. Sempre però nel quinto inning arriva un altro singolo da due punti che arrotonderà il punteggio ed è quello di J.D. Martinez, l'ex giocatore dei Boston Red Sox e di Los Angeles Dodgers, tra le altre appunto porta a casa altri due punti, 8-4 per dei Mets che di fatto sono corsari contro Ashby, in esattore partente di Milwaukee. Alla fine gara 1 sembra molto indirizzata verso questi Mets che si sono qualificati peraltro in questi playoff al termine di una gara 1 contro gli Atlanta Braves, allucinante con fuoricampo, contro fuoricampo, punti, sorpassi, controsorpassi, insomma di tutto e di più. Alla fine i Mets con questo entusiasmo hanno battuto una squadra che sulla carta era più quotata. Peccato però, e qui ci trasferiamo subito a gara 2, che appunto New York non ha fatto i conti. Con questo giocatore qui inquadrato alla maglia numero 11 è venezuelano e si chiama Jackson Churio in una squadra, quella dei Milwaukee, che non ha di fatto Christian Jelic out for the season, ma può contare soltanto o non solo sulle prestazioni del classe 2004. Sì, avete capito bene signori, Jackson Churio è un classe 2004 ed è il primo 2004 della storia a fare due fuoricampo in questa postseason. Il primo è questo e lo sbatte fuori in campo opposto. Grande giro di mazza di Churio che poi si ripete nella parte bassa dell'ottavo contro Phil Mayton, palla che anche qui si perde oltre le recensioni dell'American Family Field. Una palla che Mayton lascia in mezzo, Churio la impatta e questa la salutiamo. È di fatto ballgame perché poi sull'onda di questo fuoricampo da un punto che porta il puntito sul tre pari, i Brewers arriveranno a vincere 5 a 3. Ma quello che non sappiamo è che gara 3 sarà ancora più incredibile rispetto alle precedenti due partite. Gara 3 è una partita bloccata, è un elimination game, una partita senza domani dove chi vince va avanti, chi perde va fuori. È 0 a 0 nella parte bassa del settimo. C'è Butto per i New York Mets a lanciare, c'è Jake Bowers nel box di battuta per i Milwaukee Brewers. L'ex giocatore degli Young si dice di iscriversi alla storia in questo modo, impattando il lancio di Butto e sbattendolo fuori senza nessun tipo di ritegno. È un lancio che finisce nel secondo piano dell'American Family Field che esplode. Jake Bowers può completare il giro delle basi per il primo punto della partita. Milwaukee va sul tabellone sbloccando 1 a 0 in una sfida che è veramente delicata, vista la grande importanza. Milwaukee però non contenta, si permette col battitore successivo di ripetere la sensazione e per noi italiani in realtà è un gran bel vedere perché Salvatore Frelick, italo-americano che ha giocato nella nazionale italiana all'ultimo mondiale, fa quello che ha fatto Bowers. Questa palla si perde oltre che ci insolite l'American Family Field. Home run da un punto, 2 a 0 Milwaukee. Salvatore Frelick esulta e fa uscire questa palla a 108 miglia orari. È un siluro che si perde oltre le recensioni dell'American Family Field. 2 a 0 Milwaukee. Per i Brewers entra evidentemente un altro giocatore importante, ovvero Devin Williams, il closer, uno dei più importanti di questa Lega. Per i Mets c'è Vitalonso che è sempre stato un battitore molto forte ma spesso quando batteva lui i Mets o non battevano oppure i fuoricampi di Alonso erano abbastanza inutili, valevoli solo per le statistiche individuali. Qui siamo nella parte alta del nono, ci sono corridori agli angoli, c'è una grande opportunità per Pitalonso per provare a iscriversi ancora una volta nella storia come uomo Mets e Devin Williams lancia questa palla che Pitalonso decide di sbattere fuori dopo questa traiettoria. 3 a 2 con un giro di mazza. L'American Family Field che prima era esplodo di gioia e adesso è silenziato. Fuoricampo dell'Orso Polare decisivo in questo momento per qualificare i Mets al secondo turno. 3 a 2 fuoricampo da tre punti nella parte alta del nono contro uno dei closer più importanti della Lega che aveva subito soltanto un punto in tutto settembre, quindi subisce 3 con un giro di mazza. L'Orso Polare esulta per i Mets che vanno sul tabellone e per la cronaca. Questo sarà anche il risultato finale. Questa è la gioia dei New York Mets che vanno a concludere con un'alimentazione in seconda e un doppio gioco difensivo. La Wild Card Series è ballgame all'American Family Field. I New York Mets vincono una serie di postseason dopo 10 anni e vincono contro i Milwaukee Brewers al termine di una gara che ha qualcosa di allucinante. Se è un sogno ragazzi non svegliatemi, non adesso, continuiamo su questa marcia. I Mets sono qualificati in un modo clamoroso dopo aver battuto a punta tanto in quella parita tanto decisiva nella regular season dopo che avevano finito. Hanno vinto in questo modo la Wild Card Series e adesso sono qualificate alla Division Series della National League contro i Philadelphia Phillies, una grandissima squadra in un derby di fatto della National League East. Rimaniamo in National League però e andiamo nella parte bassa. C'era un'altra grandissima sfida tra i San Diego Padres e gli Atlanta Braves. In questo caso sfida tra due Wild Card e, come avevo detto peraltro nel video di qualche giorno fa, San Diego ha la meglio sui Braves e vince di fatto sweepando la serie per una squadra, come dicevamo anche nell'ultimo video, che finalmente con i campioni che ha in squadra ha trovato l'amalgama. È uno dei campioni che aspettavamo tanto con ansia nel vedere in questi ultimi momenti della stagione. È Fernando Tatis Jr., che evidentemente si iscrive ai suoi primi playoff in questo modo. Di fatto nella parte bassa del primo un fuoricampo che si perde, oltre alle recensioni del Petco Park, che finisce direttamente al secondo piano. 2-0 per i Padres contro gli Atlanta Braves, che anche loro sono qualificati in quel modo stravagante contro i New York Mets, una palla uscita a 112 migliorari e permette ai Padres di mettere i punti che di fatto decideranno la partita sul tabellone. Peraltro gara 1, la vincerà San Diego con uno shutout 4-0 il punteggio finale. Sarà in realtà un po' diverso l'esito per gara 2. Una gara 2 che invece vede però comunque un copione molto similare, perché i Padres erano partiti fortissimo in gara 1 e partono altrettanto forte. In gara 2, come dice dalla grafica, i Padres segnano 5 punti nel primissimo inning e lo fanno a partire dal fuoricampo di Kylie Gashoka, la superstar che non ti aspetti se possiamo chiamarla così. I Gashoka, ex giustore degli Yankees, ha fatto fuoricampo in gara 1, lo fa anche in gara 2 per l'1-0 dei Padres. Ma appunto, se pensate che San Diego si fermi qui, ebbene, sbagliate tantissimo, perché appunto i Padres segneranno 5 punti nel secondo inning. Qui arriva addirittura la battuta di Manny Machado contro Max Fried, che sarebbe di certo un lanciatore di primissima fascia. Arrivano i punti dell'1-2 e dell'1-3 per quanto riguarda i San Diego Padres. È un doppio per Machado e poi chiude i conti il rookie terribile dei Padres. Jackson Merrill non riesce al recupero proprio di Michael Harris II. È un triplo per Meryl. 5-1 per quanto riguarda i Padres. Ci sarà in realtà una gioia personale anche per gli Atlanta Braves. Ci sarà Michael Harris II, che è stato protagonista di quella presa mancata poco fa per arrotondare il punteggio. In realtà eravamo nella parte alta dell'ottavo ed eravamo 5-2 per i Padres. Michael Harris II arriva a sbattere fuori questa palla. Fuoricampo. 5-4 e quindi attenzione perché in qualche modo potrebbe esserci ancora una partita al Petco Park. Però in realtà, piccolo spoiler, il punteggio non cambierà più. I San Diego Padres si sono qualificati sweepando secondo me i più quotati Atlanta Braves, ma comunque San Diego ha trovato una grande amalgama in questa parte finale di stagione e alla fine con Robert Suarez sul monte di lancio e Travis Darnot. In battuta arriva il lancio decisivo da parte del numero 75. È un pop che si alza sotto il cielo di San Diego. La prende in qualche modo il ricevitore dei Padres. Ballgame al Petco Park. I San Diego Padres avanzano al turno successivo. Si qualificano per le Division Series dove sarà senza sé e senza ma derby con i Los Angeles Dodgers. Ricordo, ve la butto lì, che i San Diego Padres non hanno mai vinto una World Series e da tanto tempo in realtà non vincevano una serie di playoff. Questo è dunque quello che è successo per la National League. Adesso però passiamo dall'altra lega, l'American League, perché se tutti o quantomeno i grandi esperti si aspettavano da una parte Houston, dall'altra Baltimore come qualificate, ebbene sappiate che non è così, perché vengono sweepate entrambe. Houston viene sweepata da Detroit, Kansas City invece sweepa Baltimore e di conseguenza avremo Detroit contro Cleveland e Kansas City contro New York Yankees. Quello che però fa evidentemente specie è che nella serie tra Baltimore e Kansas City è, come dire, non esploso. Confermato una superstar di questo gioco. Al numero 7 gioca per i blu ed è Bobby Witt Jr., che di fatto è l'autentico mattatore della serie che si gioca a Camping Yards. Qui arriva un RBI single che porta a casa il punto dell'1-0, un RBI single che peraltro sarà decisivo. Infatti Kansas City vincerà 1-0 la prima partita contro Baltimore e non poteva che essere di Bobby Witt Jr. l'unico punto decisivo di questa partita. Va detto però a onor del vero che è equilibrata anche gara 2. Una gara 2 che vede in questo momento come protagonista Cedric Mullins in una sfida al momento con Seth Lugo sul monte e Kansas City in vantaggio 1-0. Arriva il lancio del giocatore portoricano. Cedric Mullins però lo impatta così. Palla che va lunga, anzi oltre le recinzioni di Camping Yards. Arriva il punto del pareggio. I Baltimore Orioles vanno sul tabellone con i giocatori più rappresentativi della sua squadra ed è 1-1 per Cedric Mullins che impatta questo lancio. L'avete visto benissimo. In mezzo al piatto da parte di Seth Lugo e finisce di fatto nelle strade di Baltimore. Peccato però che Baltimore non abbia fatto i conti ancora una volta con Bobby Witt Jr. Se ha fatto singolo nella prima partita lo fa anche nella seconda. Prova il recupero, la difesa di Baltimore ma non riesce. Bobby Witt di gambe è salvo e con due out. Arriva il punto del 2-1 nella parte alta del sesto. Valida di gambe. Difesa straordinaria va detto del seconda base di Baltimore ma Bobby Witt è stato più veloce della palla in questo caso e di conseguenza tutti salvi e punto a casa. Per la cronaca la partita finirà 2-1 per i Kansas City Royals e questo è l'ultimo out. Arriva lo strikeout da parte di Lucas Herzeg, giocatore arrivato negli Oakland Athletics e i Kansas City Royals. Anche loro una vita dopo si qualificano alle Division Series. Vi ricordo che i Kansas City Royals sono arrivati ai playoff negli anni recenti ma soltanto nell'epoca dei grandi Royals, quelli che vinsero il titolo con la small ball e persero la finale contro i San Francisco Giants ma parliamo del 2015 e del 2014. Attenzione perché questi Kansas City Royals sono giovani e forti e chissà che non possono giocare qualche altro brutto tiro in una sfida che in realtà sarà contro i New York Yankees. L'ultima serie che rimane da analizzare è quella però decisamente più a sorpresa perché francamente io non mi aspettavo che Detroit Tigers sui passero di Houston Astros, squadra che è stata tanto abituata a giocare e vincere i playoff eppure i Tigers sono stati bravissimi nell'interrompere la striccia di sette apparizioni consecutive degli Astros alle Conference Finals per usare un termine ocheistico. Detroit sweepa Houston 2-0, lo fa al Minute Maid Park per appunto il solito discorso che è la squadra meglio qualificata, ha il fattore campo e lo fanno con una serie di giovani terribili soprattutto con una grande prestazione di Tarek Skubali in gara 1 che silenzia totalmente l'attacco degli Astros ma poi appunto compensata dal fatto che i giovani fanno veramente il loro a partire da Trey Sweeney che va a mettere questo RBI single per avanzare i corridori di Detroit. 2-0 per la formazione di AJ Inch, ha altra grande storia la sua, AJ Inch è stato uno storico manager dei Houston Astros e gli ha fatti vincere il titolo, va detto in un modo molto discusso, con i segnali rubati e quant'altro, ma comunque Inch ha scattato una squalifica, è tornato ad allenare e è accaduto fin da subito in questo progetto di Detroit. Detroit che evidentemente è una squadra giovane e forte e lo dimostra anche in un altro contesto. Qui siamo in gara 2, abbiamo Parker Meadows sul box di battuta che spezza un'altra partita che era ferma sullo 0-0, fuoricampo da un punto per Parker Meadows e silenziato completamente Hunter Brown che fino a quel momento era stato perfetto con 0 punti concessi. Meadows va a girare un lancio che in realtà era un po' clamoroso nel modo di vedere, però il numero 22 riesce comunque a farselo piacere, completa il giro delle basi e porta Detroit sul tabellone. C'è un'altra grande storia che va raccontata e per decidere questa partita è una partita che in realtà vincerà 5-2 e lo farà con Andy Bagnas, giocatore cubano che ha provato a scappare più volte da Cuba verso gli States, questa volta ce l'ha fatta, si ritrova a giocare in una situazione di basi piene, 2-out, il punteggio è 2-2 nella parte alta dell'ottavo, arriva evidentemente Josh Eider, uno dei close primati della Lega, che viene però battezzato così da parte di Andy Bagnas, la palla cade ed è buona, si perde nell'angolo morto a sinistra, corrono tutti i giocatori dei Detroit Tigers, arrivano i punti del 5-2 che permettono ai Tigers di pulire le basi, Eider subisce 3 punti, i Bagnas con un triplo fondamentale per la vittoria dei Tigers, appunto il punteggio sarà quello che vi ho detto, 5-2 e quello che vediamo è l'ultimo out, Detroit non si qualificava i play-off dal 2014 e non andava così avanti dal 2012, quando persono in finale con la squadra a 0 e questo è l'ultimo out per la via 43, ball game al Minute Maid Park, Houston probabilmente ha finito la dinastia o poco ci manca, fatto sta che dopo anni alle Conference Finals vengono eliminati dai Tigers, una squadra per il quale io non davo minimamente un centesimo ma neanche per sbaglio, ma il baseball è bello perché si ha regalato sempre delle storie incredibili e piene di suspense e di emozioni, questa è una di quelle, i giovani terribili dei Tigers alla fine si sono qualificati alle Division Series e affronteranno i Cleveland Indians o Guardians come si chiamano adesso per un derby della American League Central, per una Division Series che ha un format leggermente diverso rispetto al primo turno e qui entriamo brevemente in come funziona adesso il tabellone da qui in avanti, abbiamo visto il primo turno che appunto era almeno delle tre partite, quindi la prima squadra vincerne due si qualificava al turno successivo, adesso le partite da giocare in totale sono al meglio cinque, di conseguenza la prima squadra che vince tre partite passa al turno successivo, il format è due partite in casa nella squadra meglio classificata, due partite nella squadra peggio classificata e l'ultima ovviamente del fattore campo della squadra meglio classificata, quindi per quanto riguarda i fattori campo sono a favore di Philadelphia, Los Angeles Dodgers, New York Yankees e Cleveland Indians, i Detroit Tigers affronteranno appunto gli Indians in questo derby della American League Central e io francamente tifo per la quinta partita perché Cleveland è esplosa quest'anno, ha una squadra che è veramente solida, ha i fratelli Naylor che sta facendo il bello e il cattivo tempo, ha un monte di lancio soprattutto per quanto riguarda i rilievi molto molto forte, ma questi Tigers hanno battuto Houston, squadra decisamente più forte e sono giovani e terribili e sappiamo che i giovani quando arrivano in uno stato mentale di importanza riescono a tirare fuori qualcosa di incredibile, quindi io tifo per la quinta partita, chissà se si possa saltare l'upset, un po' difficile secondo me sarà invece il pronostico per i Kansas City Royals che affronteranno dunque i New York Yankees, secondo me finisce 3-1 per gli Yankees, ma attenzione perché anche Kansas City è una squadra che fin dall'inizio avevo detto di tenere l'occhio perché comunque avevano fatto un bel mercato, hanno un Bobby Junior che è esploso e tanti giocatori che possono fare veramente bene per il futuro di questi Kansas City Royals, il presidente resta a playoff ma appunto vede una vittoria 3-1 per quanto riguarda gli Yankees, i pronosti invece secondo me sono molto complicati per quanto riguarda la National League perché abbiamo quattro squadre veramente tanto forti e che ci sono arrivati a questi playoff per motivi diverse e con motivazioni tanto diverse, il derby californiano tra Los Angeles e San Diego è di fatto un derby della National League West, vedo comunque favorita più Los Angeles che vedo più quadrata, Los Angeles va detto da un certo punto di vista è anche una squadra in missione che diciamo dovrebbe vincere solo per il roster che ha, ma appunto un conto è la carta, un conto è il campo, i Los Angeles Dodgers sono costruiti per arrivare fino in fondo, parliamoci chiaro, se non arrivano minimo alle finali di Lega è un fallimento, San Diego però ha trovato una bella quadra potrebbero mettere in difficoltà, io dico, Los Angeles Dodgers in 5 partite come pronostico. Per quanto riguarda invece il derby della National League East, io sono tifoso dei Mets, il cuore battezza i Mets come squadra del destino, l'altra squadra del destino per quanto riguarda l'American League secondo me è Detroit, ma appunto facciamo caso a questa cosa, i Milwaukee Brewers hanno perso gli Arizona Diamondbacks e sono arrivati i figli in fondo l'anno scorso, il primo turno era ancora con i miei protagonisti e hanno perso anche quest'anno, chissà che i New York Mets non possono fare lo stesso percorso degli Arizona Diamondbacks. Da tifoso spero che vincano in 5 partite, sulla carta io vedo però 4 partite in generale nella serie a favore di Philadelphia, quindi un 3-1 per i Phillies, i Mets comunque hanno fatto comunque vado una grande stagione, ripeto il cuore vorrebbe la vittoria in 5, la testa e un po' l'analisi dice Philadelphia in 4 per un eventuale finale che sarebbe Los Angeles Dodgers-Filadelphia-Fillies che evidentemente se la meriterebbero in quanto migliori due squadre della Lega per quanto riguarda la National League, va detto però appunto che il baseball regala sempre cose particolari, tante emozioni e vedremo. Il fattore campo sarà appunto a favore di Philadelphia, quindi il format è 2-2-1, si giocherà appunto già a partire in generale per le Division Series della notte tra questo sabato e questa domenica con tutte le squadre in campo per poi arrivare, speriamo con un prossimo recap con tanti altri episodi da raccontare. Già queste prime Wild Card Series sono state clamorose, avete visto quanto c'è stato da dire e come evidentemente hanno inciso questi episodi nell'amalgama dei play-off e del proseguo per appunto un secondo turno che parte a brevissimo con queste serie. Detroit contro Cleveland, Kansas City contro New York Yankees per quanto riguarda l'American League. New York Mets, Philadelphia Phillies e San Diego e Los Angeles Dodgers invece saranno i quattro team per la National League Division Series. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei vostri pronostici, se non avete voglia o volete recuperare questo video è presente anche in formato podcast su Spreaker e tutte le altre piattaforme dedicate sotto il nome del podcast del destino sulla MLB e ricordo ancora una volta che per chi volesse un approfondimento ancora più lungo domani mattina ore 11 su Instagram pagina MLB. Sarò ospite con il Doc Puma Zeta e Teo di Media Battuta per quanto riguarda un'analisi approfondita e i nostri pronosti verso la World Series. Ci vediamo con il baseball dunque domani mattina su Instagram e al prossimo recap qui sul canale. Il saluto da parte di Matthew Thorgaard, ci vediamo al prossimo video.